Gatenin Torrio, manca un'ora alla chiusura del cancello di Gassonei, i volti del Tor, senza interviste, Alfredo, ciao, ciao, benvenuto, avanti, dritto, alla meta, proseguiamo, proseguiamo, in bocca al lupo, poi, viva il lupo, da qui è, ti ha un più luce, da qui è un po' meno, ma il viaggio continua anche per lui, il Torrio è questo, sono i volti di chi aspetta, è un lungo viaggio d'attesa, non credo nulla a nessuno, questo è il Torrio, fatto di donne, fatto di uomini, fatto di nonni, fatto di visi, qui è il dito alle quinte, poi andiamo sugli atleti, è una carinata di volti, di visi, di gente che aspetta, che si nasconde, che scappa da noi, ma noi li banchiamo in qualche modo, questo è il Torrio, persone che guardano di là, queste moustache, queste bacche, benvenute, andiamo di là, questi sono i volti, che sono per noi la benzina, che ci permette di andare avanti, non so quanto, ma andiamo avanti, con Tommy, i miei operatori di fiducia, con il fiducia di qua, andiamo dai primi piani di cash credit ad altri cash credit, andiamo, andiamo qui, andiamo sulle donne, e questo è il Torrio, questo è il Torrio di Stéphane Bartholome, nostro amico bravo, grazie a voi, grazie a voi, questi sono i giganti del Torrio, lì c'è la gigantesca mamma di Francesco De Fabiani, futuro campione impido, bellissima, il papà un po' meno, mettiamola giù così, andiamo in questa base d'Ital, questa gente magnifica, qui si è occupato, dei recuperi dei rifiuti del Torrio, bilancio in 20 secondi, 20 secondi, ci sono ancora troppi rifiuti a terra, e non dobbiamo buttarli, perché quella plastica, uno, è gialla, e le vacche se la mangiano, come sappiamo, e ce la ritrovando nella fontina non va bene, due, va nell'acqua, l'acqua va al mare, quella plastica non va buttata, abbiamo delle Alpi meravigliose, bisogna correrle, grazie per quello che avete fatto, che stiamo facendo, poi, andiamo lunghi, andiamo su questi volti, vi ascolite come Yvonne che è qua, che applaudo io, Fontanelli all'adietro, welcome, il pollice da un mondo all'altro, andiamo su questo amico che si chiama, thank you very much, ongayanzu, voi, carinata, il cane al cavo, senza rompere le scatole di nessuno, e ogni ben di Dio, adesso lei, si mandano messaggi, thank you very much, grazie, il sorriso bozzato, che ci guarda, con un po' di stupore, che ci guarda una canata, e chi come Tito, Aritoni, sta chiamando a casa, per dirgli, dai, si va avanti così, siamo in diretta sui web, sino come io, grandi voi, poi, beh, questo qui è scarso, quello lì anche, macchi, rossi, e poi giganti, poi chi aspetta, chi chiama, Eric, Trophy Girl, benvenuti, buona chance, poi indiamo, grazie, grazie di tutto, da parte del Toro, a voi per quello che fate, andiamo a vedere, le schifezze, mi sono scusi, qui mangiano pasta, sicuramente i giapponesi, mischiano tutto di più, from Japan, thank you very much, from Japan, thank you very much, thanks, 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 ok, poi Giappone, vediamo qui chi c'è, un altro atleta, from Japan, Chisara Mouimitsu, ok, tu invece sei, Alessandro Lombardo, in bocca al lupo, poi andiamo avanti, qui abbiamo, prendiamo alla grande, crediamo qual è il botto, questo serbizio, Bordon, il miglior fotografo del mondo, eccolo qua, là in mezzo, si nasconde ma, è il segno di destino, chiudiamo, il re dei 5.000, taking of 5.000 metri, portatelo via, Zillo Lorenzi, voi, chiama, avete metto questa gente, la pasta, i volti, buona pasta, buona cena, buon tutto, a chi guarda il Toro, bene l'assistante, ciao, come va? benissimo, bravissimi, grazie a voi, poi andiamo, coraggio verso il traguardo, un primo piano anche questo, poi, le donne che comandano, ah, questo è un mito, questo è un mito, dedicato, io ancora un sacco, monsieur, monsieur, Jean-Michel Thoreau, non sapea niente, il l'arrêté, non, 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 non è l'assistante, non, non è l'assistante, non è l'assistante, non è l'assistante, questo è un mito, ve lo racconto tutto, ormai siamo lanciati, sono anche le 11 di 6, il mitico collega, il nostro collega, che è un paracacco, che è come io, qualche hanno fatto il guardo, che ti sovien, allora, un'interview, in francese, in spagnolo, per 3 minuti, e poi la risposta, più te la francese, ti ammite, Jean-Michel Thoreau, è un mito di Tor, un tatano prossimo, andiamo a chiudere, con l'ultima carillata, andiamo a casa, da questa terra, che viene presso dalla, from China, from Japan, ok, questo è il Tor, vediamo se, chiudiamo altri volti, andiamo, aumenta il metro, a questa gente, e chiudere, con l'ultimo volto, che ci viene in mente, andiamo da chi sta seguendo, per la stampa, grazie per quello che avete fatto, grazie, thank you very much, frontoto, grazie, questo è il Tor, questa è l'immagine, che vediamo, con questi due amici, assieme a noi, non capisco il cinese, nemmeno il giapponese, loro non capiscono, quello che dico io, Jean-Michel TVAC, vieni, vieni Jean-Michel, questo è, F.Ivan, the big parasacco, questo è il Tor, fatto di persone eccezionali, che non capiscono, quello che dico, ma va bene lo stesso, la del Tor, delle 23 giudizie, a Gersonet, buon Tor a tutti, e mi passiamo Jean-Michel, alla prossima, grazie di tutto, a tutti e a tutti, ciao, grazie, grazie,